Io politicamente scorretto è il primo anno a cui mi vengo invitata, avevo assistito ad altri interventi, ero venuta qualche altra volta e trovo che sia un contenitore molto bello e anche molto appassionante e dove si possa comunque raccontare e ascoltare tantissime realtà, quindi un approfondimento su quello che può essere la realtà italiana in questo caso e quindi sì, approvo moltissimo politicamente scorretto.